Dopo i furbetti del cartellino, ecco i furbetti del seggiolino, accade ancora a massa, dove la Guardia di Finanza ha indagato 14 dipendenti della CCT Nord, l'azienda di trasporto pubblico, per furti dei pezzi di ricambio che rendevano insicuri i pullman da trasporto. Noi ci stavamo muovendo in un campo più vasto dell'indagine, è emerso questo filone e il fatto che si sono verificati diversi episodi in un periodo tutto sommato contenuto e breve che ha riguardato l'indagine ci ha portato a considerare che era anche necessario interrompere questa attività criminosa. E nelle immagini si vede che il bus arancione si ferma davanti al distributore interno, scende un signore con una tannica in mano, la riempie di gasolio e poi fa rifornimento al bus. Il carburante finiva poi nelle auto degli indagati e in parte rivenduto. Non solo prevedeva come azione illecita quella dell'apprezzione materiale dei quantitativi di carburante, ma anche la manomissione dei registri corrispondenti relativi. E qua in piazza delle Corriere nel centro di massa c'è poca voglia di parlare da parte degli autisti che si dicono dispiaciuti dell'accaduto. Non riesco a non dire niente, sono rimasto male e basta. È rimasto male? Non aspettavo una cosa del genere. Mi piace ma non è male. Nessun commento? Nessun commento. Non so niente, guardi. Niente. Gli indagati sono accusati di peculato e furto in concorso e l'indagine continua. Sono state ulteriormente corroborate da alcune perquisizioni svolte in concomitanza della notifica delle misure cautelari disposte.